Ciao ragazzi, bentornati, ben ritrovati sul mio canale, io sono Andrea. Ogni tanto ritorno, diciamo, operativo sul mio canale per parlarvi di libri, di letture, comunque sì, di libri di lettura e di scrittura mia quando c'è. Il libro di cui vi volevo parlare oggi è un libro di Thomas Wolff, Angelo guarda il passato, Luke Ward, Angel in inglese. Vi faccio vedere la copertina anche se verrà al contrario, perché ovviamente il video verrà al contrario. Questo è un libro che io ho acquistato molto, diciamo così, grossolanamente dopo aver visto il film Americano Genius con Jude Law e Colin Firth, libro, film che parla appunto di questo autore, di questo autore americano un po' controverso, di cui vi invito, diciamo, ad informarvi un po' su internet, adesso io non sono, diciamo così, una fonte migliore di tutte quelle che potete trovare su internet, nel senso che, come preciso sempre, io non sono un grande esperto di letteratura, ok, nel senso io amo leggere, provo a scrivere, ma ho dei buchi, diciamo, di letteratura clamorosi, ogni tanto me ne rendo conto, però non è questo il punto. Quello che vi suggerisco intanto nei miei video è qualche buona lettura, che a me è appassionata, mi è piaciuta e condivido con voi. Questo non è un libro molto facile, nel senso, è un libro, definirlo particolare, è un eufemismo. Thomas Wolfe, ve lo faccio breve, nasce, diciamo, nel 1900, spaccato in America, in North Carolina, e rappresenta, morirà giovane, morirà nel 1938 per tubercolosi. Vi consiglio anche il film, caldamente, perché è veramente molto molto bello, ed è quel film che mi ha spinto ad acquistare questo libro, in realtà già qualche anno fa. Poi, tra una cosa e l'altra, non ero mai riuscito a iniziarlo, anzi, in realtà non l'avevo comprato subito, però mi era sempre rimasto lì questo libro. Poi l'ho trovato su internet, tra l'altro, un po' a fatica, perché questa edizione che vi ho mostrato è un'edizione mondadori, non so di quando, forse degli anni 60, se non prima. Fine anni 50, questa edizione, perché poi non ne hanno traduzioni recenti, io non ne ho trovate. Ne ho trovate, in realtà sì, una che ho comprato per averne una, diciamo, un po' messa meglio, ma è una stampa un po' grossolana, recente, però quantomeno c'è. Mi era rimasto lì. Allora, Thomas Wolfe nasce nel 1900, muore nel 38 e in mezzo ci butta dentro, secondo il parere di molti, tanti capolavori. Diversi romanzi, molti racconti, insomma, è uno scrittore che sarà il principale riferimento della beat generation del primo del 1900, quindi ispirerà diversi autori, diversi autori, diciamo, su questo stile narrativo. Anche qua io non mi inoltro in spiegazioni tecniche e letterali, perché non mi sento preparato per farlo. È un tipo di scrittura molto tsunami, come viene definita, ok? Molto di pancia. Io questo libro l'ho adorato e sicuramente lo conservo sul comodino come uno dei libri più belli che abbia mai letto, perché Thomas Wolfe riesce veramente a un lessico vastissimo, cioè, veramente, lascia di stuccola il numero di parole, di vocaboli, di aggettivi con cui riesce a descrivere ogni minima cosa. Infatti è una caratteristica che ho poi riscontrato anche in altre recensioni, proprio di Wolfe. Quindi avere questo spettro di vocaboli, spettro di utilizzi delle espressioni clamorose. E riesce veramente a toccarti l'anima, a toccarti dentro con questo romanzo. Adesso io mi sono ripromesso di leggere altro. Di Wolfe, anche se, ripeto, è difficile procurarsi le sue opere, però, insomma, cercherò. Allora, di cosa parla questo libro? Se no, non vado al sodo. Angelo, angelo, virgola, guarda il passato, già il titolo evocativo, spettacolare. Parla, è autobiografico. Thomas Wolfe diceva che non avrebbe potuto scrivere altrimenti che questo, cioè, altrimenti che della sua esperienza di vita, ok? Quindi è un libro che parla della sua famiglia all'interno del contesto della società americana dei primi del Novecento. Quindi dalla sua infanzia fino a circa quando lui compie vent'anni, e poi se non vi spoilerò niente. Quindi lui fa una caricatura della sua famiglia, anche se tanto caricatura non è perché, a quanto pare, diciamo, era una famiglia abbastanza disastrata, abbastanza complicata, complicatina, diciamo così, dalla quale lui rifugge, anche se poi, diciamo così, non così facilmente come vorrebbe. Quindi rimane comunque sempre ancorato alla sua città natale e ai suoi affetti. Padre ubriacone, padre assente, la madre assente e immobiliarista, quindi dedita agli affari più che alla cura della propria famiglia. Diversi fratelli e sorelle, uno muore giovane, l'altro morirà anch'esso più avanti, fratello a cui lui era maggiormente legato, e che è, diciamo, uno dei pilastri, uno dei personaggi chiave di questo libro. Ci sono tutti gli pseudonimi, ovviamente utilizza pseudonimi. Thomas Wolfe nel libro è Eugene Kent. Oliver Kent è il padre, Elisa è la madre, e poi ci sono le varie sorelle, il fratello Ben. Tra l'altro questo non è un pseudonimo, ma è il vero nome del fratello che appunto morirà poi nel corso della storia. Questo non è uno spoiler perché è un po' la sua vita. È un libro autobiografico, cioè, quindi è fantastico per questo. Io trovo che, sono convinto ed è scontato che nei romanzi di qualsiasi scrittore, un pizzico se non qualcosa in più della propria esperienza personale, ci vada a finire sempre. Nel caso di Thomas Wolfe questo è un libro totalmente, totalmente autobiografico, ma capace comunque di catturarti e di entrarti dentro perché ne riesci a raccontare emozioni, scene, a descrivere la vita. Io, ripeto, non ho letto tutto quello che c'è, si può leggere, anzi, avrò letto un millesimo di quanto esista su pianeta Terra, di autori, di libri, eccetera. Però di quello che ho letto, Thomas Wolfe, credo sia un fenomeno, credo sia un fenomeno. La critica si è sempre un po' divisa, mi sono informato, alcuni lo definiscono un genio e io sono tra questi, perché secondo me leggete questo libro e ditemi se una persona che scrive questo tipo di libro non è un genio. Per altri invece no, per altri è uno scrittore un po' altezzoso, che scriveva troppo. Questa è un'altra caratteristica di Thomas Wolfe, una scrittura che viene definita a fiume, comunque a valanga, nel senso lui produceva manoscritti di una lunghezza esorbitante, che nel film viene anche ripreso questo tema. Gli editori dovevano poi andare a tagliare, a spezzettare, quindi questo Angelo Guarda al Passato sono 600 pagine, ma erano in origine ancora di più. Quindi per alcuni era semplicemente, invece lui è anche poeta, oltre che romanziere, nasce anche come poeta. Infatti nel romanzo ci sono veramente dei frangenti in cui è onestamente e obiettivamente difficile stare dietro. Bisogna impegnarsi e sforzarsi di superare delle fasi all'interno di questo romanzo che non sono di facile comprensione, perché lui divaga, cioè lui ti stacca, ti rischi di perderti perché la forma non è una priorità. Questa è la cosa secondo me più grande, cioè lui pur non seguendo regole, pur non rispettando regole e forma, se on, ovviamente nelle aspetti più basilari, è chiaro che non è un libro sgrammaticato, cioè è un libro che segue una logica, anzi nella sua complessità, nel suo apparente disordine è ordinato questo libro, perché ha una struttura analogica, una sequenza, però come si dice ci sono dei punti di poesia pura in cui veramente si rischia di perdere un po' il filo, ma io trovo che questo è uno degli aspetti belli, anzi un valore aggiunto del libro. Per alcuni è un po' un chiacchierone, un chiacchierone sopravvalutato e quindi non un grande autore come invece l'altra parte della parrocchia, diciamo, ha definito, quindi per questo è un attista un po' controverso che morirà appunto troppo giovane probabilmente. Io non ho molto tempo, ci sono passati 11 minuti e ci vorrebbe veramente tanto tempo perché mi piacerebbe leggervi anche vari passaggi straordinari, ve lo consiglio caldamente. Detto questo io vi saluto e vi rimando al prossimo video, chissà quando lo farò. Mi sto leggendo Gente di Dublino di James Joyce. Ciao a tutti, buona serata.